Siamo in compagnia del sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola, per tracciare un bilancio dei tre mesi estivi che sono appena passati, siamo nel mese di settembre, allora la sindaco come è andata e anche dal punto di vista delle presenze, quante ce ne sono state nella città di Agropoli? Allora stiamo calcolando i dati per dare dei numeri precisi e quindi nei prossimi giorni vi sapremo dire con precisione le presenze, però l'hanno già verificato con tanti con gli operatori, ma anche dalle verifiche che facciamo direttamente sulla produzione dei rifiuti, sulla produzione delle acque nere, abbiamo verificato che è stata un'estate con tantissima gente, probabilmente a secondo di quello che dicono i nostri vigili urbani che verificano la viabilità, forse l'estate in assoluto in cui Agropoli ha avuto più gente negli ultimi anni, le presenze quindi sono state numerosissime, tantissime. L'estate noi abbiamo retto bene in generale come ente, i servizi sono stati dati, c'è stato forse qualche problemino, ma veramente raro per quel che riguarda la fornitura idrica, se ci confrontiamo anche con i comuni limitrofi che hanno avuto molti problemi di nuovo, il comune di Agropoli ha retto abbastanza bene e quindi siamo felici di come è andata l'estate. Sapete insomma dalla cronaca che abbiamo dovuto però, siamo dovuti intervenire diverse volte con delle ordinanze anche abbastanza dure perché le tantissime persone che sono venute in Agropoli, molte di queste hanno dimostrato insomma un non corretto comportamento. In particolare ricordo insomma l'ordinanza per la chiusura delle spiagge la sera del 14 per evitare quella situazione dei falò che era diventata una cosa assolutamente vergognosa. la spiaggia ci veniva consegnata il 15 mattina in maniera assolutamente inaccettabile e quindi quella sera, quella notte insomma che con la collaborazione delle forze dell'ordine e del lavoro dei vigi urbani fino alle 4 del mattino abbiamo respinto centinaia di persone che arrivavano con la spiaggia con l'obiettivo di insomma bivaccare e quindi questo ci fa capire insomma che le persone sono state tantissime ma che noi dobbiamo assolutamente migliorare in termini di qualità del turismo. Quindi le azioni dei prossimi mesi saranno tesi per la prossima estate a evitare insomma che un certo tipo di turismo venga in città a rovinare l'ambiente che abbiamo costruito dopo tanti anni di sacrificio e credo sia un ambiente accogliente che comunque posiziona Agropoli tra le qualità turistiche più in vista insomma della regione Campania. Noi per questo lavoreremo insomma per migliorare sempre di più i turisti però se devo dire, devo fare una considerazione finale, io credo di essere soddisfatto di come è andata l'estate e tutti i dati come ho detto sono positivi, abbiamo avuto una vita sulle spiagge assolutamente confortevoli, abbiamo avuto anche una buona vita notturna, hanno ripreso a lavorare le storiche discoteche di Agropoli che hanno comandato dei servizi per l'intera giornata quindi riteniamo insomma che la nostra offerta turistica sia abbastanza variegata, lavoreremo naturalmente ripeto per migliorare soprattutto la qualità, migliorando l'offerta noi possiamo migliorare bene la domanda quindi dobbiamo assolutamente essere da una parte più incisivi verso chi viene in città, pretendere insomma un comportamento degno, dall'altra parte migliorare ancora di più la nostra offerta in termini di servizi e di eventi.